... Eva, quinto campionato italiano consecutivo oggi entri nella storia? Eh sì, sono molto contenta di aver vinto anche oggi. Sì, come avevo già detto bisogna sempre prima vincere, ma comunque mi sono sentita molto bene oggi, ho fatto il mio ritmo e sì, sono contenta. L'avevamo detto anche alla partenza, è un percorso davvero divertente. Sì, è un percorso molto bello, mi sono divertito un sacco oggi, anche se faceva caldo, ma comunque in mezzo al bosco si stava abbastanza bene e per quello molto divertente. Un'occasione anche per vedere Nemi, una città bellissima. Sì, mi ha impassionato molto tanto questa cittadina qua e infatti sono contenta che abbiamo fatto un campionato italiano qua perché è veramente carino e sì, sono contenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.